Sì, è bello che ti senti, è bello che ti metti. Giorgio Meloni parla. Sì, signor Presidente, è bello che ti senti, è bello che ti metti. Sì, grazie per il tuo tempo. Come sei? Sono bene, sono bene ora. Ho sentito molte buone notizie. Quindi, quale è la situazione? Sì, sì, la situazione è un po' difficile. Inoltre, la situazione è molto difficile per noi a gestire in questo tempo. Abbiamo avuto, da l'inizio del anno, in 7 mesi, 9 mesi, più di 120,000 persone che venivano principalmente da Tunisia. È una situazione che è molto difficile per ogni settimana. Beh, vedo che c'è molta fatica, devo dire la verità, da tutti i settori. Sì, è vicino il momento in cui tutti capiscono che abbiamo bisogno di fuori. Il problema è di trovare un fuori che può essere accettabile per tutti, senza distruggere la legge internazionale.